Cominciamo immediatamente, per non perdere tempo, il nostro ordine del giorno reca i sensi dell'articolo 143,2 del regolamento, l'audizione della Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Senatrice Valeria Fedeli, sulle linee programmatiche del di Castero. Il confronto però oggi ci dice, prendendo due dati esemplificativi, che come spesa pubblica in percentuale sul PIL siamo dietro a molti Paesi europei e riferimenti internazionali e che se guardiamo alla remunerazione dei docenti, questi sono dati della Commissione europea del 2015 e del 2016, nella scuola secondaria un insegnante italiano ad inizio di carriera guadagna tra l'8 e il 103% in meno di altri Paesi. Dobbiamo investire di più per i docenti, per il diritto allo studio, per gli spazi di formazione, per la ricerca e l'università. Gradualmente lo si sta facendo, ma servirebbe su questo, io penso, un cambio deciso di grandezza. Il sapere deve essere un fattore di uguaglianza e strumento di opportunità reali e di pari opportunità dei diversi soggetti, mirando allo stesso tempo a formare una cittadinanza piena e consapevole. In quest'ottica si inseriscono le azioni per la parità anche tra donne e uomini. Riprenderemo il lavoro fatto sulle linee guida per far crescere il rispetto tra donne e uomini, aprendo ad una nuova fase di ascolto per arrivare ad un piano di lavoro concreto e largamente condiviso. Lavoreremo inoltre per eliminare quegli stereotipi che incidono sulle scelte di bambine e ragazze in particolare, ad esempio condizionando negativamente l'approccio, come voi già sapete, sulle materie STEM. Lavoreremo ancora per rendere più equilibrati i programmi scolastici, dando attenzione alle tante donne in ogni campo che hanno avuto ruoli importanti e rappresentano eccellenze da conoscere, studiare e valorizzare. Penso a partire quest'anno da Grazia, da ricordare, fa studiare la figura di Grazia dell'Edda. Annuncerò nei prossimi giorni, insieme ad Enrico Giovannini, l'istituzione di una commissione per disegnare un programma che consenta alle nuove generazioni di mettere la cultura dello sviluppo sostenibile al centro delle scelte individuali e collettive, proprio nella cornice fornita dall'ONU con l'Agenda 2030. Grazie invece alla collaborazione di Anna Maria Serafini, un secondo gruppo di lavoro affronterà il tema dell'adolescenza, per indagare quel momento delicato della vita di ragazze e ragazzi in cui le fragilità sono più esposte. Lanceremo un'alleanza contro la povertà educativa, sociale, economica e relazionale. E per completare, senza tradirne l'impianto, che d'altra parte ho votato in Parlamento, le riforme avviate, lavorando, come dicevo, per attuare, equilibrare, migliorare. Prima di venire alla parte più tematica del mio intervento, voglio dire qualcosa su cosa sta succedendo per le scuole nelle aree colpite dal terremoto. Come ricordato dal Presidente Gentiloni ieri in Senato, la prossima settimana ci sarà un nuovo decreto e le scuole continueranno ad essere in cima ai pensieri di tutto il Governo. Infatti, come Ministero stiamo lavorando perché il completamento dell'anno scolastico sia garantito a tutti e a tutti. Nel decreto sul terremoto che sarà approvato la prossima settimana in Consiglio dei Ministri sarà prevista una norma finalizzata proprio a questo. Per questo si inserirà una norma che consente di derogare la durata minima di 200 giorni di lezione perché l'anno scolastico sia valido e alla frequenza per gli studenti di frequentare almeno 3-4 dell'orario annuale per essere valutati ed ammessi agli esami. Venendo più in concreto alle azioni in corso, partendo dalla scuola, abbiamo da un lato iniziato a lavorare per centrare tempestivamente nel migliore dei modi possibili tutti i passaggi necessari per iniziare senza le difficoltà del passato il prossimo anno scolastico. Niente testimonianza all'intesa raggiunta a fine dicembre sulla mobilità del personale. Dall'altro lato serve poi lavorare, come dicevo, per portare a compimento il percorso di riforma e le azioni impostate in questa legislatura, superandone le criticità ma mantenendo obiettivi e finalità. L'impegno centrale deve essere quello di superare i divari territoriali, sociali e di contesto anche grazie al diritto allo studio effettivo per tutte e tutti. Su questo il Governo ha dato una prima importante risposta con la legge di bilancio del 2017 che ha stanziato ingenti risorse per borse di studio che accompagnino gli studenti capaci e meritevoli fino al più alto grado di studi. Nuovi ulteriori passi li faremo con il decreto legislativo sul diritto allo studio inviato da poco al vostro esame. Le studentesse e gli studenti trovano una risposta alla loro esigenza di un'istruzione e formazione di qualità anche e soprattutto grazie al lavoro dei dirigenti e dei docenti, nonché del personale amministrativo. Un milione di persone che quotidianamente ce la mettono tutta e profondano amore e cura per le loro attività. Per loro ci stiamo impegnando come doveroso affinché il loro ruolo recuperi quell'importanza e considerazione nella società che ingiustamente negli ultimi anni si è un po' persa. Come? Continuando con le azioni di reclutamento per ridurre la condizione di precariato che caratterizza ancora tante e tanti, stabilizzando nell'organico i posti che occupano da anni grazie a 400 milioni stanziati nella legge di bilancio e con un impegno a lavorare in dialogo con i sindacati perché il prossimo rinnovo contrattuale che è assolutamente vicino sia una vera occasione di valorizzare tutte le professionalità condividendo il valore della continuità didattica. Il futuro corso concorso per dirigenti scolastici di cui è prossimo il bando oltre a dare un'occasione per una progressione di carriera a quei docenti che siano interessati a un nuovo ruolo consentirà di riportare alla normalità i carichi di lavoro dei colleghi già in servizio. A breve partirà anche l'iter per il concorso per i direttori dei servizi generali e amministrativi. Lo Stato torna così ad investire in questo ruolo avendo ben presente l'importanza della disponibilità di uno di loro titolare nelle scuole. Nel corso dei prossimi mesi e comunque in tempo utile per l'inizio dell'anno scolastico terminerà anche il concorso bandito nel 2016 per 63.712 posti docente. Per quanto riguarda l'edilizia scolastica ho trovato un lavoro di programmazione ben fatto e capace di ottimizzare al massimo le risorse disponibili. Abbiamo in atto diverse azioni. La programmazione nazionale grazie ai Muti Bay ha già permesso di finanziare oltre mille interventi lo scorso anno. Occorre ora procedere al completamento della procedura di finanziamento per aggiornare la programmazione con ulteriori interventi. L'adeguamento poi degli edifici alla normativa antisismica. Nel 2017 il piano sarà dedicato alle competenze digitali degli studenti per superare i divari e le retratezze della società lavorando anche sul pensiero logico e computazionale che diventerà strutturale in ogni scuola del primo ciclo per ribadire il concetto che i nostri studenti non possono limitarsi più ad essere consumatori passivi di tecnologia ma consumatori critici e possibilmente creatori. Una delle novità più importanti della legge 107 è stata la trasformazione dell'alternanza da sperimentazione a pratica strutturale di didattica. Con l'anno prossimo quando il sistema sarà andato a regime il numero di ragazzi e ragazzi coinvolti sarà un milione e mezzo. Dobbiamo monitorarne l'evoluzione, intervenire dove sono presenti criticità e soprattutto superarle. Credo ad esempio che dobbiamo rapidamente approvare la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza per assicurare ambienti di apprendimento favorevoli alla crescita della persona e che garantiscono i pieni diritti alle ragazze e ai ragazzi a garantire un sistema di monitoraggio della qualità dei percorsi di alternanza. L'esame di maturità non sarà più facile. Certo, si sono ridotte a due le prove, ma la seconda potrà essere multidisciplinare. L'esame sarà così più semplice nelle modalità, ma questo non vuol dire più facile. Dando maggior peso al percorso dell'ultimo triennio e stimolando gli insegnanti ad esprimere una valutazione complessiva su ciascun alunno e su ciascun alunno, valutando in modo non meccanico la media di voto, si punta a verificare effettivamente il livello di acquisizione di conoscenze e competenze delle ragazze e dei ragazzi. A fronte del calo delle immatricolazioni, credo proprio che su questo dovremo concentrare anche di più la nostra attenzione. Lo dico perché su questi tre temi, università, ricerca e AFA, noi dobbiamo rimettere al centro molte cose. Quello che mi pare chiaro da poco più di un mese di lavoro al e con il Ministero è che insomma il nostro sistema scolastico di formazione superiore e di ricerca ha criticità sicuramente, perché mi sono state segnalate da più parti, ma anche molte eccellenze non abbastanza valorizzate. Penso a tutte le nostre qualità che abbiamo sull'area aereo-spaziale, per dire che siamo fortemente competitivi nel mondo. Io credo che da questo punto di vista serva anche a noi operare quotidianamente per ridurre e intervenire sulle criticità e nello stesso tempo però rendere consapevole il Paese anche delle eccellenze che ci sono. Grazie.